Buongiorno, oggi parliamo di Agis Extra Care, i pannolini pensati per i nonati per la loro pelle delicatissima fin dalla nascita perché sono ipoallergenici e approvati le dermatologi. Sono qui con Vanessa Vannini che è la responsabile marketing di Agis Italia che ci racconterà tutte le caratteristiche di Agis Extra Care. Ciao Chiara, è un piacere essere qui. Cosa li rende più adatti ai più piccoli? Per la loro estrema delicatezza a contatto con la pelle. Si sa che nei primi mesi di vita i nonati hanno una pelle molto sensibile, più soggetta ad irritazioni, quindi è fondamentale che i pannolini siano fatti di materiali idonei e sicuri, che permettano una perfetta assorbenza, che siano morbidi e che offrono un'ottima vestibilità. Per questo i pannolini Agis Extra Care sono dotati in vita di una morbida banda elastica che li rende perfettamente aderenti al pancino ma senza stringere creare irritazioni. Sono appositamente studiati per i neonati e sono approvati dai dermatologi. Oltre all'estrema delicatezza assorbe proprio tutto? Grazie ai sufficissimi cuscinetti ultraassorbenti che trattengono il bagnato della pipì e della popù liquida, che è tipica dei primi mesi di vita. Ora proviamo a fare un piccolo test versando del liquido su tutto il pannolino. e aspettiamo un minuto. Ora prendiamo il nostro bambolotto e facciamo la prova. Come vedete, la pelle rimane asciutta e protetta. Per un'ulteriore protezione, i pannolini hanno una doppia barriera sul giro gamba e una tasca posteriore per trattenere la popù liquida, che è tipica dei primi mesi di vita. Come capire quando è il momento giusto per cambiare il pannolino? Il pannolino, specialmente nei primi mesi di vita, va cambiato molto spesso per evitare che la pelle sia a contatto con il bagnato. I pannolini Agis Extra Care, per aiutare i neogenitori in questa impresa, sono forniti di un indicatore di pipì sul fronte, che si colora di blu e aiuta a capire quando è ora di cambiare il pannolino. Grazie Vanessa. Grazie Chiara, è stato un piacere. Grazie Agis Italia. Ci vediamo alla prossima puntata di Guida alla Scelta. Grazie a tutti.